Presidente, il Giglio Orgoglio Nolano. Orgoglio Nolano con Giglio del Sarto, con 18 ragazzi eccezionali che ho avuto il piacere di averlo a forma di figliocci, è stata una esperienza molto bella, molto interessante, ho conosciuto questi ragazzi che sono divertiti durante tutto l'anno e hanno dimostrato di volere una festa migliore, una festa imbrogata sull'amicizia e sulla fede. E un'altra cosa, che il suo fratello o lei che ha detto che i balconi... No, è stata la mia idea, perché penso che in effetti Nolano dovrebbe presentarsi, a tutte le persone che vengono, ai turisti, dovrebbe presentarsi nel modo migliore, nel modo migliore per presentare una città e quella di essere tutti in fiori, tutti in festa. Certo, è un primo passaggio, col tempo speriamo che la cosa, anche con una questione di educazione al bello, possa veramente Nolano diventare più bella e presentarsi ancora meglio, anche perché Nolano è il patrimonio dell'UNESCO.